Sono sicuramente sulla strada per il lavoro dei miei sogni. Mi chiamo Vittoria e vengo da Lugano. Sono specialista della comunicazione per un'EP, il programma dell'ambiente delle Nazioni Unite. E praticamente il mio lavoro consiste nel trasmettere messaggi al pubblico sulle questioni ambientali, le questioni del cambiamento climatico. Ho iniziato a lavorare per le Nazioni Unite nel 2018. È grazie agli svizzeri e al governo svizzero se sono qui adesso. Questo programma di UN Youth Volunteers mi ha aperto un mondo e ho veramente scoperto quello che sono e quello che voglio continuare a essere. Siamo cresciuti in una multiculturalità. Siamo nati in un paese dove si parlano diverse lingue e siamo obbligati a parlare diverse lingue per farci capire, soprattutto se si viene dal Ticino. Penso che quello che manca agli svizzeri spesso è questa capacità di valorizzare il lavoro che fanno. Hanno difficoltà a metterlo in avanti, hanno difficoltà a pubblicizzarlo in un certo senso. È peccato. In settembre del 2002 ero all'inizio delle scuole medie. Non avevo probabilmente nessuna idea delle Nazioni Unite. Allora, in Italia, ch